Sabato 13 e domenica 14 si celebrano le giornate fai d'autunno. Il Fondo Ambiente Italiano valorizza l'arte e la natura del nostro paese. Anche la campagna protagonista. In provincia di Avellino saranno aperte al pubblico le sorgenti urciuoli di Cesinali, quelle della Madonna della Sanità a Caposele, la sorgente peschiera Pollentina di Cassano Irpino, l'impianto per la potabilizzazione dell'acqua e l'oasi WWF di Conza e l'area naturalistica e il museo etnografico della Bocca del Dragone. L'Irpinia è protagonista ed è protagonista col bene più prezioso che esiste sotto i nostri piedi, le acque. Le acque peraltro potabili che ogni giorno bevono 5 milioni di persone, che significa il 10% della popolazione italiana. Ogni giorno le acque dell'Irpinia vanno ad essere consumate uscendo dal rubinetto potabili perché la natura ci ha dato un miracolo geologico. Volontari protagonisti anche a Salerno dove il Fai ha deciso di ambientare l'evento principale nello splendido scenario di Villa Daiala a Valva dalle 10 alle 18 e 30 di domenica. Ad accogliere i visitatori, gli studenti del liceo classico Levi di Eboli. Il percorso di visita comprenderà anche il borgo di Valva ed in particolare la chiesa madre dedicata a San Giacomo Apostolo. A Benevento, grazie alla piena disponibilità della diocesi, sarà visitabile la cattedrale di Benevento Santa Maria dell'Assunta in Piazza Orsini e sarà anche visitabile, eccezionalmente con accesso riservato ai soli iscritti Fai, il campanile della cattedrale. A condurre i visitatori alla scoperta del sito ci saranno gli apprendisti Ciceroni del liceo artistico Virgilio e di liceo scientifico Galilei Vetrone.